Fredezza dei mercati, il giorno dopo la presentazione del piano Merkel-Sarkozy, creato per dare ossigeno all'economia della zona euro, ci attesa ora per vedere l'andamento del resto della settimana. Modesta la chiusura delle borse di Parigi e Milano, mentre Francoforte e Londra hanno concluso con un segno negativo. A pesare sulle borse sarebbe soprattutto la proposta franco-tedesca di un atto ben tax. In Italia intanto approdata in Senato la manovra economica, anche se l'atmosfera è vacanziera, si prevede un iter tutto in salita per le molte divisioni all'interno della maggioranza sul piano di austerity.